Anche è pronto? Non lo so, Antonio è pronto oppure no? Quasi pronto. Ciro! 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 Non so se è pronto, penso... è pronto. Signore e signori, da Napoli, il re dei neomelodici, accogliamolo qui da Cirale come merita. Per voi, questa sera, insieme ai brigantini, Ciro Esposito Musella! Buona sera che ne facci, buona sera! Mi sembra una viaccia poco valorosa, facciamo sentire un applauso! No, no, non mi piace, non mi piace, un nuovo tu! Sostenuto, 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 sto scendo la Cirale in campo, la Cirale in campo, forza a Cirale! Grazie a tutti! Infiamuti, infiamuti, che qua ci sta a Cirino, voi lo sapete che mia nonna era qui a Cirale. Guardate! Intanto che abbia, maestro, però questa sera è notata la Cirale. Vi volevo raccontare di una situazione artistica molto bella, perché io questa sera sono qua, approssimamente, per dedicare questa canzone, una canzone che parla di amore, ma soprattutto di furto. Furto, questo è il verbo? Rubare, rubare, rubare! Questa canzone, appunto, parla di amore e furto, che infatti si intitola tu, mi hai rubato il cuore. La canzone che io ho scritto, ovviamente, sempre in collaborazione con il mio caro maestro, a cazzo baccalà, vi approfitto per ringraziarlo, grazie a cazzo! La canzone che dedica a tutto l'essere umano, di sesso femminile! Questa è una zona romantica, di una zona romantica, che rubare. con me ti avrei dato un imperi distratto anche un colpo di fulmine ma un colpo di fulmine in queste giornate di accosto mi sembra così dire che una notte guardato ai miei occhi ti sei accorta solo che sono un po' stabile e non mi importa niente tu mi hai rubato tu mi hai rubato tu mi hai rubato tu mi hai rubato di cuore e non mi importa e allora per dispieto mi romperò la macchina tu mi hai rubato di cuore e non mi importa e come in una cesto ti rubo anche il tuo lavoro e da solo poi mi chiamerò mi chiamerò e felice mi risponderò e non mi importa e con il tuo danionino mi scriverò messaggi di ccc.ffu Tu mi hai rompato, tu mi hai rompato, tu mi hai rompato il cuore con l'Europa, mi hai combinato il bagno all'interno e il mio fisico, mi tengo due polmoni, un intestino, un grasso, un vegano, un amico e un buono, lo ha scivato, ma il cuore adesso non lo ha detto più, perché una roba e me l'hai preso tu, ed io che non avevo mai firmato per donare gli ordini. Solo pochi di voi sanno che questa cosa qua noi la facciamo in offerta gratuitamente per questa serie A, quindi non si paga. Ora, quando vi andate al villaggio turistico vi fanno pagare 2.000 euro alla settimana, ma questa sera ve lo facciamo fare gratis, quindi tutti quanti con le mani in alto alto gratuitamente verso il cielo, e le muoviamo un po' a destra a destra e un po' a sinistra a sinistra, un po' a sinistra a destra e un po' a sinistra a destra. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN E io, tu guardavi e credevo che tu, guardavi e ridevi per te, mi sembravo simpatico. Ma guardavi e ridevi 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 e ridevi. Non ci siamo mai preci per mano, però per il culo mi prendi da te, mi sembravo simpatico. E non ti ha fatto niente, tu mi hai ruppato, tu mi hai ruppato, tu mi hai ruppato il cuore. E non ti ha importe a me, e allora mi ha dispieto e si recupero la macchina. Tu mi hai ruppato il cuore, e non ti ha importe a me. E come il preci sto, vivo tu anche in telefono. E quando poi mi chiamerò, mi chiamerò, e felice mi risponderò. E io, tu mi hai ruppato il cuore. E 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 tu mi hai ruppato il cuore. Ma un cuore adesso non lo deco più, perché da un anno te lo hai preso tu, io faccio un punto e a forza il tuo giorno, adesso il cuore di Gesù. Che hanno aperto la mia serata, io ho terminato il concetto ma ritornerò, buonanotte a cari e pocci.